Talvolta nel sottobosco in periodi umidi o in seguito a buone precipitazioni e a un momento nel quale nel sottobosco permane un elevato tasso di umidità al suolo quindi il terreno rimane bagnato e umido a lungo iniziano a nascere copiosi funghi di varie specie, vi compresi gli ottimi porcini e a volte queste condizioni però possono portare gli stessi porcini ad una crescita sì, magari meravigliosa e fantastica con esemplari che si sviluppano rapidamente anche in grande numero ma spesso e volentieri l'elevata umidità può portare all'azione di funghi parassiti sovente del genere ifomices definiti in gergo più depopolare ifomiceti che sono dei funghi dall'aspetto di muffa di colore che può essere biancastro può essere con tonalità giallastre, sono differenti specie che tendono ad intaccare le boletacee, i vi compresi i porcini quindi quando ci sono queste condizioni nelle zone più umide può capitare che dei ritrovamenti che all'apparenza risultino molto belli quindi come di questo porcino nero Boletus ereus la parassitosi, l'infestazione, la presenza di questo ifomices mini comunque una parte della comestibilità del fungo che abbiamo di fronte quindi quando si trovano i funghi con queste caratteristiche e con queste condizioni ove la presenza del nostro ifomicete è ben visibile dobbiamo iniziare a pensare che il nostro fungo la carne del nostro fungo è oggetto di attacco da un parassita un parassita che se viene consumato il nostro fungo non previa cottura o magari poco cotto può dar luogo a dei disturbi di natura gastroenterica o gastrointestinale e quindi di conseguenza come ci dobbiamo comportare di fronte a questi ritrovamenti intanto non dobbiamo mettere il nostro fungo che ha il principio di parassitosi nel cestino perché altrimenti rischia di trasmettere questo fungo parassita si muove magari nel cesto si avvicina un pochino a qualche altro fungo rischia di iniziare a compromettere anche una parte del resto del nostro raccolto secondariamente quando già direttamente nel bosco o eventualmente poi quando arriviamo a casa è bene asportare la parte che è stata infestata dal nostro fungo parassita e consumare eventualmente le parti residue la cui carne ci sembra che sia in ottime condizioni di commestibilità e non presenti cattivi odori solamente dopo cottura altrimenti corriamo il rischio di avere qualche disturbo il consiglio generale comunque è questo quando noi nel bosco ci troviamo di fronte a una situazione simile vuol dire generalmente che c'è una buona crescita di funghi all'interno del sottobosco pertanto possiamo anche fare una scelta più ecologica di lasciare il fungo intonso nel suo luogo di sviluppo a diciamo proseguire il suo cammino notiamo che questo esemplare di Boletus cereus aveva già raggiunto un buon grado di maturazione delle spore di conseguenza farà un ottimo lavoro ecologico-biologico per la sopravvivenza futura del micelio indipendentemente dal fatto che sia stato parassitato o meno che sia stato parassitato o meno